La risposta all'uscita dal gruppo Lega dell'Europarlamentare Francesca Donato arriva dalla Lombardia. Qui il carroccio è pronto a fare un'infornata di nuovi esponenti. I primi tutti in uscita da Forza Italia, verranno presentati già questa mattina da Matteo Salvini, ma non è escluso che dopo le amministrative ne possano arrivare altri. Il nome più altisonante è quello di Alessandro Fermi, il 47enne presidente del Consiglio regionale Lombardo. Il comasco dà tempo e in procinto di passare al carroccio, tanto che i primi rumors che lo riguardano datano addirittura a luglio 2020. Alle ultime regionali Fermi ha collezionato 8229 preferenze, risultano il più votato in provincia di Como, ed è stato tra i più accaniti sostenitori, tra gli azzurri, delle richieste di maggiore autonomia per la Lombardia. Assieme a lui verrà presentato anche il lecchese Mauro Piazza. Mentre voci insistenti parlano di un pressing serrato per convincere anche il sottosegretario con delega ai rapporti internazionali Alan Rizzi e la vicepresidente della Commissione Sanità Simona Tironi. Di lei si era parlato anche a proposito di un possibile passaggio a Fratelli d'Italia, ma alla fine la Bresciana sembra aver scelto il carroccio. Nella ridda di voci che ieri pomeriggio ha animato l'aula del Pirellone, ce ne sono state alcune che hanno toccato anche la giunta. Si è parlato, per esempio, di un possibile passaggio da Forza Italia alla Lega di Melania Rizzoli, la quale, interpellata al telefono da Libero, ha seccamente smentito spiegando di essere perfettamente in linea con il partito di Silvio Berlusconi. Idem Giulio Gallera sempre al nostro giornale ha smentito nella maniera più assoluta contatti con altri partiti che non siano Forza Italia. Grazie per la visione!